E parliamo dei borghi italiani che rappresentano una parte fondamentale del patrimonio culturale turistico d'Italia. Negli ultimi anni poi la loro presenza online è diventata sempre più significativa riflettendo l'interesse crescente del pubblico e dei turisti verso queste affascinanti località. Questo è quanto emerge da una ricerca realizzata da Social Data in collaborazione con l'Associazione Civita che è una realtà che da oltre 30 anni, 35 per esattezza, si occupa di valorizzare il patrimonio artistico e culturale con una particolare attenzione proprio ai borghi. Ne vogliamo parlare questa mattina con il segretario generale dell'Associazione Civita Simonetta Giordani. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora che cosa emerge di interessante da questa ricerca e soprattutto qual è stato l'obiettivo a cui avete puntato? Ma a noi la nostra associazione si batte per dimostrare l'importanza del patrimonio diffuso di un'Italia che è costituita non solo da magnifiche città d'arte ma anche da tanti piccoli borghi che rappresentano una attrazione turistica e anche un'opportunità abitativa alternativa. E quindi volevamo dimostrare come anche il mondo dei social e la popolazione avesse un'attenzione e un interesse verso queste piccole realtà che un tempo erano dimenticate. E quindi abbiamo avuto l'idea con Social Data di realizzare questa ricerca per capire quanto la parola borghi fosse in grado di movimentare e ingenerare partecipazione nella rete. E abbiamo avuto infatti una, devo dire, dei risultati molto interessanti perché nella nostra ricerca abbiamo rilevato circa 58 mila menzioni con un totale di 10 milioni di interazioni che hanno riguardato alcune parole chiave e alcuni borghi che sono stati inseriti nella nostra ricerca. Quali sono stati i borghi più citati? Nella top 10 abbiamo Amalfi, sì perché poi ogni regione ha fatto un po' una rincorsa alla ricerca del borghi più visto e più menzionato ed è naturale che sia così, un po' un gioco divertente. Ma Amalfi quindi guida la classifica con oltre 20 mila menzioni e 700 mila interazioni, seguita poi da Positano con 18 mila interazioni e 650 mila, chiedo scusa, con 18 mila menzioni e 650 mila interazioni, Peccioli in Toscana, poi Bellagio in Lombardia, Tropea in Calabria e Maratea in Basilicata, seguite da Ronciglione nel Lazio e da Soave nel Veneto che completano la lista dei borghi più citati. Ma al di là del gioco la cosa importante che volevamo dimostrare è che in qualche modo ci sia un'attitudine molto positiva e di scoperta nei confronti di questi borghi, tant'è vero che oltre quasi l'80% del sentiment espresso in rete era molto positivo quando si collegava a questa parola borghi. Quindi è stato dal nostro punto di vista un bel esperimento. Ecco, alla luce anche della vostra esperienza, come dicevi in apertura l'Associazione Civita è una realtà che da 35 anni si occupa di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro paese con un'attenzione proprio ai borghi. Quanto la presenza di un borgo su Instagram, di una foto particolare, del fatto che magari tutti poi vogliono andare in quel posto per fare la stessa foto possa essere, non so, un volano magari per il turismo? Eh ma l'innovazione tecnologica e i social media riescono a far vedere delle realtà altrimenti poco accessibili. Parliamo di borghi che spesso sono nasposti, non sono neanche facili da raggiungere, mentre invece con il social e con la voglia di rendere partecipi e di ingaggiare persone c'è la possibilità di far conoscere e anche visitare queste realtà che diventano sempre un pochino più alla portata di tutti ma anche a livello internazionale. Basta che ci sia qualcuno che va a inserire su Instagram una foto particolare di un chiostro, di una chiesa e la viralità consente di accedere a centinaia di migliaia di persone e rendere quindi visibili e conoscibili realtà normalmente poco accessibili o meno note e che invece incontrano l'interesse delle persone perché i nostri borghi rappresentano la nostra identità competitiva nel mondo. Sono una caratteristica che abbiamo qui in Italia e non in altri paesi. Bene, allora sono contenta di questo collegamento di stamattina perché appunto abbiamo scoperto anche la vostra associazione, l'associazione Civita. Spero che presto ecco riusciremo a fare un altro collegamento magari su un'altra notizia che riguarda il nostro patrimonio artistico e culturale. Grazie a Simonetta Giordani per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi e a presto, volentieri. Grazie, buon lavoro anche a voi e buon estate. Beh, citare questi borghi, Amalfi, Positano, Tropea, Maratea, Ronciglione, Peccioli ha fatto venire davvero voglia di trascorrere un fine settimana, di fare una gita fuori porta. E allora, è arrivato il momento di fermarci e poi le parole di Don Francesco Armenti per proseguire con il nostro appuntamento di oggi.